Io ho inventato questi palloni, vedi questa curva lì? Siamo ad Arezzo, nella località Bagnaia, siamo venuti a trovare l'architetto Dante Bini, uno dei grandi protagonisti del Novecento, e ci racconta un po' la storia della sua vita. Questo incontro era importante perché è una testimonianza di un momento molto intenso di questo periodo storico, dove architettura, innovazione, ingegneria si sono mescolate, la ricerca anche della costruzione di un mondo nuovo. Era anche un po' un'utopia, forse qualche volta non realizzabile, però era l'intensità, la forza della creatività, ma anche di questa curiosità di costruire un mondo nuovo. Quindi incontriamo Dante, che ormai è un uomo che ha fatto un lungo percorso. È un piacere incontrarti. Ciao Dante, meraviglia di vederti. È veramente straordinario. Grazie di essere venuto e sono molto onorato alla tua presenza. Ci sono venuti con grande spirito e curiosità di scoprire la tua vita meravigliosa. Allora Dante, siamo qui a casa tua per questo incontro che di fatto era il piacere di fare con te una chiacchierata un po' su una storia straordinaria della tua vita, ma volevo cominciare con una domanda d'attualità, la scomparsa di Monica Vitti, che tu hai conosciuto e tutta quella storia che c'è dietro a questa tua amicizia, anche poi con Michelangelo Antonioni, questa villa, insomma. Quindi se ci racconti un po' come è nata questa storia, come sei arrivato poi a fare quella cosa lì. Pensando a Monica, in questo momento, anche se mi era trista, mi fa sorridere, perché era una donna eccezionale. Dici, voglio far conoscere Monica Vitti. Mi tolgo e dici, corro, perché veramente Monica era di una bellezza che ti affascinava. Quando sono arrivato lì, non sapevo che cosa dire, e mi è venuto in mente di darmi un pochino di aria, mettermi un pochino su un piedistallo, visto che parlavo con un personaggio di questo livello, e dico, sai, io sono appena tornato da New York dove ho costruito una cupola in un'ora in cemento armato. Io costruisco queste cupole usando aria, con un soffio d'aria io tiro su diverse tonnellate di calcestruzzo e ferro per costruire una cupola in cemento armato. Dall'espressione di Monica ho subito capito che pensava che raccontasse le solite balle. Invece Doris ha detto, no, no, è vero. E appena tornato, sui giornali, anche italiani, si parla di questo esploi, che questo architetto italiano ha fatto nel campus del Columbia University, su invito di un famosissimo professore che si chiamava Mario Salvadori. Il professor Mario Salvadori, faceva parte anche con Fermi del progetto Manhattan, perché era uno dei più grandi matematici del mondo, legge a New York, in attesa di essere ricevuto dal Consolo Generale Italiano di New York, vede un libro con il titolo L'aceto balsamico. Lui, un amante di aceto balsamico, apre il libro e prima di arrivare all'aceto balsamico vedete una fotografia della cupola che io avevo fatto a Crespellano, con la descrizione di un giornalista. Un giornalista che era passato per la strada di Crespellano a Vignola, passando verso le quattro del pomeriggio, conosceva bene la strada, va a fare un servizio fotografico sulla regina di bellezza di Bazzano, Gottoviglia, eccetera, torna indietro a mezzanotte e mezzo. Con i fari vede questa palla, alta 6 metri e 12 metri di alto. Blocca i freni, entra dentro nel terreno della Unipack della Zitter, vede che c'era una piccola umidità che stava fumando la presa del calcestrusso, scaldandosi, faceva questo, anche se eravamo d'estate, di notte, di sera. Dice, o sono arrivati i marziani, o qui non c'era prima. Vedo una finestra di un contadino lì vicino, una luce, va a bussare subito. Ehi, sa volo, dice questo, rispondo in bolognese, ma che cosa è successo qua? Ah, l'ignocca è un architetto di Boulogna, l'ha fatto una boccia, l'ha andata qua. Ecco, questa, tra loro in italiano, è venuto qui in l'architetto di Bologna, ha fatto questa boccia e se ne è andata a casa. Questo è quel giornalista che scrisse poi l'articolo sulla rivista dell'Arcetto Boulogna. Il professor Salvatore è venuto a Crespellano perché lui ha voluto vedere con i suoi occhi che io veramente sollevavo con l'aria un'intera piattaforma di calcestrusso armato. Non ci credeva neanche lui. Quando lo visse dice no, adesso me lo vieni a fare da me. E lì è stata un'esplosione di interesse mondiale, mondiale. Un giorno ricevo una telefonata da Monica, dice Dante potresti venire a Roma che voglio farti conoscere Michelangelo Antonioni. Anche questa è stata una telefonata che, creduto, non mi aspettavo assolutamente. Secondariamente non sapevo che atteggiamento assumere nei confronti di un personaggio come Michelangelo Antonioni. ricevo una telefonata da Michelangelo Antonioni invitandomi a Roma per andare in Sardegna. Vorrei farle vedere questo terreno a Costa Paradiso. Con piacere, un onore, eccetera. Partiamo. La prima cosa che mi obbligò a fare, questo è il terreno che io ho acquistato, dice vorrei che tu stessi con me a sentire lo spazio che ci circonda. Vorrei che tu sentissi la brezza del vento che viene dal mare, il rumore del mare che si infrange su questi scogli, guardare il colore di questo granito sardo in quella zona è color carne. Voglio che tu senti il suono anche dei gabbiani, cioè voglio che tu percepisca il suono che questa terra ti dà, ti offre. Poi voglio che tu percepisca i profumi di questa terra, i profumi di questa erba che si essica con questo sole estivo. Vorrei che tu sentissi il profumo del ginepro, il profumo di tutto quello che ci circonda. ecco, quando tu avrai capito l'ambiente dove io voglio costruire il mio nuraghe sardo, allora fammi il progetto. Ci possiamo vedere fra un mese, torniamo qui e mi fai vedere il progetto. ricordati che io voglio vivere in tre su tre dimensioni, assaporare questi suoni, sentire questi profumi, ma aggiungo anche che entrando in casa io voglio vedere il mare, apro la porta di casa voglio vedere il mare e poi dice ma io poi tra le altre cose voglio quando entro in casa sentire anche le tiepide gocce d'acqua durante le piogge in Sardegna dove l'acqua è tiepida e questo piacere epidermico lo voglio sentire dopo che sono entrato in casa. Io entrando in casa voglio sentire il profumo dello spazio e del tempo. lui deve aver visto in me un'espressione abbastanza stupefatta perché dico ma con il profumo dello spazio e del tempo, dice oh non sa cosa sia il profumo dello spazio e del tempo, dico no scusi dottore non lo so, vieni con me mi porta a una cava lì vicino di quelle pietre straordinarie color carne granito. C'era un operaio lì che lavorava in cava e dice per piacere mi spacca questo masso, era un masso piuttosto grosso, mi spacchi questo masso, c'è da pagare, questo qui dopo un po' di tempo, dopo diversi colpi questo masso si spacca, mentre questo, mentre questo, questo sassone si stava aprendo, mi prende la nuca, mi mette il naso dentro e dice senti questo è il profumo dello spazio e del tempo. Infatti ti devo dire Mario che se non l'hai mai fatto, prendi un pezzo di granito, facciolo spaccare e senti il profumo, lì senti il profumo dello spazio e del tempo. Questo mi ha dato proprio la imposizione di creare una scala grezza che passava dal secondo piano fino al primo piano terra. E questo è stato una delle cose più straordinarie della mia esperienza nel costruire questa casa che doveva essere tridimensionale, che non dovesse una casa, una casa dove camminando da un punto all'altro vedevi i soliti muri. Lui mi ricordo che diceva che voleva avere la sensazione fisica di camminare in un bosco, dove il tutto mentre tu cammini ti gira attorno. Quando io presentai il modello sul posto di questa cupola, di questo modello fisico, Antonioni è stato immobile, lui girando il modello su diverse direzioni, si ferma in una direzione e tace, si alza su, li abbraccia, gli dice diamoci del tu. Abbiamo fatto un salto nel tempo e ci manca tutta la parte dietro del tempo, ma come nasce la Bienichelle? Perché è un'intuizione che viene proprio dallo spirito di un architetto che intuisce una cosa e la trasforma poi in un'innovazione. Quindi quella storia di come ti è venuta in mente mi sembra che sia adesso il momento anche di raccontarla. Siamo a Polonia, in un inverno molto freddo della pianura emiliana dell'epoca, mi trovai, andai a giocare a tennis con un mio amico. Entriamo dentro a uno di quei palloni gonfiati che coprivano due campi da tennis, quindi immaginate la dimensione di questo pallone. Entrando ricorderete che ci sono due porte, apri una prima porta, la devi chiudere, apri una seconda porta, la chiudi per evitare che la pressione interna esca. Va bene, allora, questa partita andò per le lunghe, forse sarebbe stata una partita di un'ora e mezzo. Usciamo, ci siamo molto divertiti, mi ricordo questo, apro la prima porta, la chiudo, tutti e due entriamo nel vano tra le due porte e cerchiamo di uscire dalla seconda porta, non si apre. Spingiamo, spingiamo, la porta non si apre. Ci cominciamo a, violentamente, a spingere questa porta dal sotto e ci rendiamo conto che quasi un metro e mezzo, un mezzo metro di neve era caduta durante la nostra partita e non si poteva uscire. Finalmente usciamo. Però, mentre Filippo, che era più forte di me, riusciva a aprire, io mi sono domandato come mai non ho percepito l'incremento di pressione per la caduta di mezzo metro di neve su una superficie enorme per cui c'erano tonnellate di peso sopra la superficie. Io non ho percepito la differenza di pressione. Ma com'è possibile? Come fa una pressione sull'ordine di centesimi di atmosfera a tenere sollevato tutto questo, questa neve. Infatti, mi ricordavo della famosa formula di fisica pressione uguale a una forza su una superficie. Se la superficie è molto grande, la forza per sostenere grossi carichi è leggerissima. Allora, siccome durante la mia tesi di laurea io feci una cupola a base quadrata in thin shell structure, cupola, in italiano si dice strutture sottili, dico, ma allora io posso sollevare con una pressione irrisoria tutto il materiale della cupola di cemento armato. Ma il problema era, sì, sono capaci di sollevare il cemento armato, non lo devo far cadere, però devo avere un'armatura metallica che da piana potesse essere tridimensionale e andare dove il calcolo stabilisce che deve andare. Allora, passano i giorni, questa idea mi continua a ruminare nel cervello, e faccio una prova. e ho deciso di fare una cupola di 12 metri di diametro e di 6 metri di altezza. Il problema era trovare un sistema per cui da piano un'armatura metallica potesse raggiungere la posizione spaziale. Allora ho pensato di mettere dei cerchi concentrici che fossero collegati secondo una diagonale che ho intuito studiando la cupola di nervi del palazzetto dello sport. Questi cerchi concentrici li ho collegati in modo spirale con delle catene che erano piatte e poi sollevandosi mi si mettevano in posizione richiesta dal calcolo. Calcolo che io assolutamente non conoscevo. Però mi è venuta l'idea brillante di fare il sarto. Cioè ho gonfiato la cupola con i cerchi concentrici con le catene poi li ho costruiti sopra facendo il sarto degli spicchi fatti di rete metallica da recinzione perché speravo che quella rete metallica non mi facesse cadere il calcistrosso. Chiamo un'auto betoniera di 7 metri cubi faccio la fondazione di questa struttura di 12 metri di diametro che avrebbe raggiunto 6 metri d'altezza chiamo l'auto betoniera quando ho visto l'auto betoniera scaricare tutto i 7 metri cubi di calcistrosso per terra dico questa qui è la tomba della mia idea. Invece quando ho dato inizio alla turbina del sollevamento vedo che questa cosa si comincia a muovere e con mia grande sorpresa perché tutti mi hanno detto che era una idea assurda vedo che si solleva si solleva raggiunge la forma semisferica della pneumoforma della forma pneumatica che sta sollevando questo materiale e chiedo ai tre operai che agli unici che mi aiutavano e mi sostenevano in quel momento uno si chiama Rigo l'altro si chiama Giancarlo l'altro si chiama Viterbo questi tre uomini mi hanno sostenuto dall'inizio alla fine tanto che li ho portati in giro per il mondo in Montegoreone se tu vedi quella lì è la prima pagina del New York Times tu vedi le persone che sono anche rampicate sugli alberi c'erano 7000 persone che hanno visto questo esperimento e questo è stato pubblicato dappertutto naturalmente una cosa importante che ciascuno di noi architetti deve avere è la curiosità essere curiosi su tutto cercare di rendersi conto perché la natura si esprime in un certo modo la natura continua a dargli delle lezioni che se tu hai la capacità minima capacità non dico di comprensione ma di curiosità una capacità di curiosità di perché la natura si esprime e si sviluppa in un certo modo per capire che cosa significa architettura non si può evitare di lavorare in cantiere e vedere quali sono i problemi che nascono nei cantieri perché poi questi problemi sono anche una lezione di come meglio progettare perché quindi c'è una relazione esperienziale tra costruire e pensare che è necessario sai di sé una cosa fondamentale essenziale perché in effetti quando si parla di architettura si deve anche parlare ed è obbligatorio parlare di tecnica delle costruzioni di scienza delle costruzioni il Brunelleschi riuscì a coprire una costruire una cupola all'altezza di 45 metri di altezza perché come si può costruire una cupola a quell'altezza senza opere provvisionale ponteggi lui inventò un sistema per costruire una cupola sono due cupole una dentro l'altra mettendo i conci in un certo modo eccetera e poi soprattutto creando un sistema che consentiva l'appoggio alla fine di questi muri periferici lui riprendo questa tua citazione perché leggendo la storia di quella cupola la storia di Brunelleschi un po' come stiamo facendo adesso e come hai fatto tu lui andò a studiare le cupole romane cioè cercò di trovare in qualche modo una soluzione che poi ha interpretato con innovazione però cercò una radice nella cultura romana delle grandi cupole romane quindi era per dire che l'innovazione è sempre figlia di una storia non è mai fine a se stessa questa continuità mi sembra che sia un tema molto importante da riprendere per quello che anche poi il tuo lavoro la cupola è un'architettura primitiva perché viene dai romani da molto lontano però sapere come si fa e poi innovarla e dire è sempre una forma ancestrale ma è innovativa i tempi cambiano la tecnologia cambia e i materiali cambiano tu stai dicendo una cosa fondamentale che tutti i giovani studenti di architettura non possono ignorare oggi sì dobbiamo rispettare il passato però dobbiamo pensare al futuro e dobbiamo utilizzare non solo nuovi sistemi di costruzione ma anche nuovi materiali c'è tutta una stagione nuova di materiali come i cementi hanno fatto una grande evoluzione penso anche il tuo periodo il periodo in cui tu hai cominciato questa avventura in realtà c'era un contesto anche di molte innovazioni da parte di ingegneri di architetti penso adesso a Morandi però anche Freyoto sono persone che comunque in quel periodo si influenzavano uno con l'altro c'era questo tema che mi piace molto Felix Candela Candela che adesso un po' mi manca che questa vivacità creativa ma anche di sfidare un po' l'innovazione tu in fondo hai fatto una cosa di cui non eri neanche consapevole però l'hai fatta e quello che mi piace nel nostro lavoro e mi permetto di dire il nostro anche se tu ormai sei un maestro che c'è quella parte di intuizione che non è neanche tanto razionale però che fa parte un po' di un DNA degli uomini della storia curiosità dell'uomo la curiosità dell'uomo che cerca comunque di trovare una soluzione nel suo tempo e questa storia delle biniscele è un po' questa in fondo è un'intuizione che era profondamente già dentro alla nostra storia quindi questa cosa mi aveva molto incuriosito e poi non che io intuito la natura ce l'insegna perché dov'è che trovi altro che la roccia qualche cosa che non è elastica in natura ogni albero è elastico e ci sono degli albi che sono alti 120 metri se vieni in California te le faccio vedere che sono cose di dimensioni immense eppure sono flessibili e resistono centinaia e centinaia di anni purtroppo non resistono al fuoco e questo è un altro tipo di argomento che va trattato però la cosa che mi ha un po' incuriosito in questa vicenda parlando di curiosità è che abbiamo avuto un momento in cui abbiamo creduto molto nella tecnologia e ci siamo spinti molto lontani poi adesso stiamo riflettendo che forse la natura ci può ancora insegnare tante cose forse non la conosciamo neanche così bene per quella complessità che dici tu quindi forse l'innovazione è anche un po' legata a riscoprire la complessità del mondo che abbiamo intorno anche in funzione di una nuova era ecologica perché noi di questo stiamo parlando stiamo cercando di ritrovare queste origini allora ti volevo fare un'altra domanda più semplice ma quando è che tu hai capito che volevi fare l'architetto è un momento nella giovinezza in cui uno decide scelgo di fare l'architetto inizio questo percorso a te quando è venuta questa idea? mi affascinava il fatto di fare dei disegni di architetture dal mio amico Cavani qui mi scrivo allora tutte le mattine da la mia abitazione che era San Michele in Bosco andare alla stazione prendere il treno fare un'ora e mezza o due dipendeva che treno prendevo a Firenze correre dalla stazione di Firenze fino alla facoltà di architettura non era una cosa facile però ho deciso di farla e ho seguito la mia vocazione in questo senso ecco così è andato come perché quando mi sono iscritto alla facoltà di architettura di Firenze poi dopo questo percorso di architettura l'hai trovato come detti ti sei ritrovato una volta iscritto alla facoltà di architettura no è successo questo che io ho dovuto interrompere a pochi esami dalla fine il mio corso di architettura e ho dovuto sono dovuto rientrare in famiglia a seguire l'industria vinicola perché chi gestiva l'industria è stato male e allora è nata una divisione per cui sono stato obbligato a tornare ma lì tornando a Castelfranco Emilia nello stabilimento grande grosso stabilimento enologico di distilleria della Vesuvabini ho cominciato a costruire delle cose che mancavano come ho preso una catena di imbottigliamento e ho fatto l'architetto senza essere architetto ancora perché non ero ancora laureato e poi ho avuto un'intuizione veramente straordinaria dal punto di vista di industrial designer e come industrial designer non mi piacevano nella cantina della Vesuvabini dove c'erano le bottiglie tutte impacchettate in strutture cubiche di cartone nodulato non mi piaceva portare 12 bottiglie in questa scatola con tutte le colle dico devo inventare un nuovo sistema di portare le bottiglie e ho escogettato in modo di tenere le bottiglie attraverso i colli delle bottiglie attraverso dei fori l'idea era talmente interessante che le cartiere di Verona volevano prendere il brevetto che io avevo depositato allora in famiglia ho detto scusate ma le cartiere di Verona mi chiedono questo brevetto perché non lo costruiamo noi e ho suggerito in famiglia e tutti hanno accettato di fondare la Unipac che è una ditta che produceva cartoni ondulati imbalaggi di cartone ondulato e vinsi il primo premio che lo chiamarono Oscar for packaging italiano ha seguito questa una serie di vittorie una dopo l'altra di imbalaggi che ho disegnato e che mi dava una certa soddisfazione mentre lavoravo con la vedo bambini non potevo fare l'architetto però mi divertiva fare il disegnatore industriale e lì finalmente sono riuscito lavorando di giorno e studiando di notte mi sono laureato e mi affascinò il professor Cuaroni dell'Università di Firenze che mi diede trenta lode nel progetto urbanistico che mi chiese allora non solo mi sono appassionato di architettura ma mi sono appassionato anche di urbanistica e questa combinazione è sempre stata nel mio cervello nel senso che tutte le volte che ero coinvolto per motivi casuali o per motivi ricercati in disegno di infrastrutture urbane mi sono tuffato anche cercando di realizzare quello che è sempre stato nel mio sogno sistemi automatici per produrre strade fognature tutta l'infrastruttura io ho voluto pensare ho voluto tentare di produrre una infrastruttura cittadina automaticamente era anche un momento in cui c'era una specie di utopia positiva ci proviamo potremmo anche provare a riuscirci che è un po' lo spirito di quegli anni in cui in fondo si accettava anche una sfida impossibile però ci si provava perché era forse anche un momento in cui si credeva che avremmo potuto farcela poi le utopie sono utili perché aprono altri scenari magari quello non si può fare però quella riflessione poi ti ha anche portato e ti faccio un'ultima domanda a un progetto veramente visionario che è quello di costruire un villaggio sulla luna che questo fu un altro periodo di cui oggi ne stiamo parlando perché oggi stanno pensando di costruire addirittura una città su Marte quindi questo pensiero di costruire su un altro pianeta nasce da lontano e tu questa cosa l'hai esplorata con una grande intuizione come avevi fatto con la tua cupola vedi questo mi porta di nuovo alla elementarità dell'atteggiamento mentale della curiosità questo ti ringrazio per questa domanda perché mi ha consentito nello svolgere questo progetto che mi è stato dimostrato di essere incapace anche di esserne coinvolto perché questa proposta fatta sempre dai giapponesi per motivi molto importanti che si basano sulla ricerca di energia per il nostro pianeta come ho scritto in questo libro Building with Air sulla Luna esiste una sostanza che si chiama regolet che è la polvere che copre la superficie lunare i giapponesi che erano in grande crisi energetica seppero che la NASA aveva scoperto grandi quantità di Helio-3 sulla superficie lunare mi chiamano dice Pini io dottor Shinji Matsumoto sono direttore dell'ufficio spaziale della Shimizu Corporation io ho fatto la mia tesi di laurea sulle sue cupole a Osaka io mi rivolgo a lei per aiutarci a risolvere questo problema il governo giapponesi consente che l'1% del nostro giro d'affari Shimizu possa essere studiato per la ricerca di energia ho saputo che la NASA gli americani hanno trovato questo Helio a Valenza-3 voglio incaricarla di studiare un sistema per produrre non un villaggio ma una base lunare early lunar base io dico guarda io purtroppo non ci sono mai stato di altro fisica dico sono l'uomo più ignorante del mondo quindi per cortesia lo so lo so ho studiato il suo sistema quindi il suo atteggiamento mentale sulle ricerche è quello che noi cerchiamo per piacere accetti ma no dico impossibile non ho nessuna nozione ah dici l'aiutiamo noi l'aiutate voi sì la faremo incontrare con l'unico geologo americano che ha camminato sulla luna mi fa incontrare sì Harrison Smith lo chiami Jack perché lui vuole essere chiamato Jack abbiamo parlato con lui e ha detto che 5 minuti per lei lo trova va dalla NASA l'appuntamento sarebbe per questo giorno io dico ma scusate grazie sono onoratissimo di incontrare con questo personaggio perché ne avevo sentito parlare questo Harrison Smith ecco lo incontro volentieri grazie mille mi incontro con questo Smith alla NASA dove io ho fatto già una conferenza anni prima l'incontro è stato così appena mi siedo dice lui dice io ho fatto un po' di background un po' di homework su quello che lavora lei ma che cosa vuole fare tutto quello che lei costruisse sulla luna viene distrutto in no time e nessuno può stare dentro le sue pupole se non ne sono coperte da 3 metri di regolet che è l'unico modo per proteggere gli astronauti che andranno in Italia quindi se lo dimentichi perché portare sui bulldozer per coprire le sue pupole non so come si permette dice lei di accettare un incarico del genere con la sua oceanica ignoranza infatti di astrofisica e della situazione drammatica che si trova sulla sulla luna le temperature assurde passano da meno zero a delle temperature ha capito? si dico sono d'accordo con lei sono qui solamente perché mi hanno dato l'onore di incontrarmi con lei io seguirò il suo consiglio di rinunciare questo incarico e dice però già che è qui le voglio spiegare una cosa le descrivo un po' la situazione sulla luna dove io ho raccolto ho infilato dentro nel regolite nel regolite che in Italia che penso si chiama regolite degli strumenti con una certa facilità e però voglio concentrarmi su un fatto che la disorienterà dopo che mi ha dato di ignorante dopo che ha detto che sono compliziere cosa vuole raccontare le racconto il percorso che io ho fatto dalla terra alla luna quando lei ascolta questo percorso si renderà conto che lei non è in grado neanche di esaminare la possibilità di accettare un'unica liceo genere bene ti racconto ti dico che questo racconto mi ha fatto accapponare la pelle mi ha fatto cambiare completamente il senso della religione poca religione che ho nel cervello e ti dico che credo di aver parlato tuttora con uno che ha visto Dio i dieci minuti che lui mi ha concesso mi ha cambiato la vita e io non dimenticherò mai la descrizione che Harrison Smith mi ha dato circa il percorso che ha fatto dalla terra alla luna ma l'incapacità del cervello umano di persone anche del livello di questo astronauta di concepire la dimensione della nostra terra solo la dimensione che vede stare nel buio assoluto senza essere sostenuto da niente ma dalla certa gravità che nessuno sa che cosa sia perché non si vede ecco già quello la dimensione il nostro cervello è incapace di capire che dimensione ha la nostra terra vederla lì da da l'orizzonte non ti dice niente quando vedi l'orizzonte incurvarsi e questa immensità stare su nel niente non solo ma quando ti sei allottanato e arrivi sulla luna e vedi la cosa opposta che una cosina tonda così diventa immensa orrenda tanto che è ributtante da quello che da quello che ti rigetta perché la superficie della luna è una cosa che ti angoscia e quando sei sulla luna col pollice così ti nascondi la terra non hai la capacità intellettuale di capire la dimensione di questi universi che ci la sintetizzo in due parole una cosa che per me è stata incommensurabile intellettualmente ti rendi conto di quanto insignificanti siamo noi uomini che ci diamo tante arie non siamo niente nei confronti non di un universo da milioni di universi che ci circondano ecco questo colloquio mi ha fatto capire che io non potevo assolutamente occuparmi di un problema torno a casa telefono all'assimiso dico scusatemi vi ringrazio moltissimo perché per me è stata una cosa pazzesca quella che mi avete offerto però rinuncio all'incarico grazie mille Bini ci pensa non rinunci subito a questa cosa no no non posso non posso no no niente poi ero appena ritornato non posso Bini ci pensa vabbè arrivi l'esposizione grazie a un certo punto gioco a tennis e torno al tennis già sicuro che non aver fatto questo progetto gioco a tennis a Napa Valley con mia moglie la palla a un certo punto mia una mia palla esce dal campo del tennis vabbè vado a prendere la palla mentre sto per prendere la palla vedo un verme sotto che sta inserendosi nella terra si inserisce col capo col naso c'è l'altro e al dentro c'è l'altro ecco l'osservare questo verme mi ha fatto pensare alla luna e dico se io facessi un verme meccanico che si inserisse sotto terra anziché fare una cupola e coprirla ma questa può essere la soluzione telefono a Tokyo e mi è venuta un'idea circa la base lunare possiamo incontrarci assolutamente venga subito perché è un problema molto serio che noi il fatto di trovare un sistema più allora vado a Tokyo dico con questa cosa qua dico se noi facciamo un verme ranciato sulla superficie lunare dentro naturalmente un cilindro un razzo e questo verme ha all'interno una bombola di aria compressa nel vuoto assoluto della luna vi rendete conto che l'aria compressa è se uno spara su una bottiglia d'aria compressa sulla luna magari aria liquida colpisse il canestro dell'aria liquida diventa un'esplosione nucleare nel vuoto assoluto e questa è la cosa interessante perché non ho fatto solamente la ricerca della tecnologia ma della ricerca di energia sulla luna perché perché sapevo da tutti gli studi che poi ho dovuto fare che sulla luna i pannelli solari che sono usati nello spazio non possono essere utilizzati perché i venti solari i bombardamenti micrometeoriti eccetera coprirebbero i pannelli solari e non sono più efficienti inoltre se uno deve pensavo fare una cosa sotto il regolite i pannelli solari l'energia solare non può essere utilizzata allora utilizziamo l'aria compressa che va bene sulla superficie e sotto allora se io detto allora se noi prendiamo un verme costituito da una molla metallica coperto di Tedlar e si apre questo verme sulla superficie della luna vero è un'attività che noi possiamo svolgere in questo modo blocchiamo la coda lassiamo libera la testa blocchiamo la testa liberiamo la coda dal suo ancoraggio e così facciamo un verme solitario un verme di tre metri di diametro che si muove sulla luna perché si muove se noi mettiamo vogliamo che questo verme agita come un'automobile evitiamo che una parte del verme si attenda allora facciamo così poi facciamo così facciamo così l'altra parte mettiamo un elemento inesensibile dall'altra parte e se lo mettiamo nel polo poi se la testa ha una trivella alimentata dall'aria che esce dal verme allora mi è venuta un'idea voglio provarla i giapponesi siamo arrivati là abbiamo fatto prima di tutto il problema gravissimo è che sulla luna c'è una gravità un sesto della gravità della terra quindi io avrei dovuto trovare un materiale che avesse un sesto la sabbia del regolit doveva sulla terra per i nostri esperimenti doveva essere un sesto del peso della polvere lunare allora proviamo il talco e abbiamo fatto lo sperimento con una pompetta d'aria e che aspiravo sul talco dimensione poco superiore di questo funzionava benissimo girava a destra girava a sinistra girava anche così però quando quando volevamo inserire nel terreno la parte di sopra galleggiava non aveva non aveva la cosa ecco allora come facciamo l'idea buona però mi viene l'idea entriamo dentro orizzontalmente in un cratere piccolo in più allora facciamo così entriamo in una montagna di sassi e talco e questo entra entra tutte le volte che si bloccava per te entra questa è una cosa che dobbiamo presentare alla NASA qualsiasi cosa ti venga proposto non devi scartarlo pensaci prima di eliminarlo è sempre un patrimonio è sempre un patrimonio e tu impari talmente tante cose che sono impagabili anche le cose più assurde nelle quali io sono stato coinvolto molte volte nella mia vita richiestami è stato sempre è un patrimonio per me di intellettuale impagabile insomma il solo fatto di essere stato coinvolto in un'operazione di questo genere non ti sto a raccontare tutto quello che io ho dovuto ho voluto anche studiarmi a proposito delle delle potenziali basi lunari la NASA ma l'ha consegnata non è stato Harrison Smith perché non lo voleva più parlare con me alla fine del nostro colloquio ma però è stata una è stata una richiesta intellettuale che io non ho potuto diciamo condividere con nessuno altro che con te oggi insomma perché sono cose che io non credo che nessun altro abbia vissute queste queste esperienze che partono solo dalla curiosità che noi tutti soprattutto noi architetti dobbiamo avere questo rientra in quel percorso che fa che fa un architetto nella sua vita che incrocia dei momenti in cui queste esperienze magari non arrivano a termine però hanno costruito un altro strato di cultura un altro strato di sperimentazione che ti porta a fare poi un'altra cosa e questa cosa che tu racconti che sembra quasi un film di fantascienza sentire che arriva un verme che va dentro un cratere che fa una città però immagino che tutto questo abbia poi alimentato altre idee e quello che cerchiamo anche noi di spiegare ai ragazzi che qualunque cosa che si fa qualche concorso che non si vincono sempre però tutto quello che si fa diventa un patrimonio della cultura di quel momento di quel momento storico della persona perché poi quello in qualche modo ritorna sempre ritorna sempre le idee che vengono fatte ritornano in questo percorso complicato che è la vita di un architetto tu però adesso mentre parli mi è venuto in mente che dalla pallina di tennis sei partito da una pallina di tennis per arrivare sulla luna e passando sempre tra queste forme sferiche che hanno un po' accompagnato tutto il tuo percorso di cui adesso abbiamo raccontato un pezzetto però tu queste queste bini scele le hai costruite in 38 paesi del mondo che dicevi perché alla fine era evidentemente una cosa di cui l'umanità aveva bisogno perché se poi ti viene così tanto richiesta evidentemente era una risposta a una domanda è stata sorprendente perché se guardi i tempi gli anni una cosa per esempio le cupole realizzate in Pakistan di 36 metri di diametro quindi di 10 metri meno del pancreo ma ne sono state costruite una ogni due giorni o tre giorni per tre anni due anni consecutivi queste però erano dei silos non mi dico sì silos per grano però capacità esecutiva la rapidità la rapidità l'uso dell'aria la durabilità e quelle poi che mi hanno fatto chiamare a Mosca in una sala tutto scuro con tutti i vestiti militari e un signore si avvicina io sono il sindaco c'è anche il nome di sindaco di Mosca volevo fare una domanda questi signori devono ascoltare ci sono degli ingegneri ci sono degli architetti ci sono dei tecnologi quindi lei deve spiegarsi come fa a fare queste cose allora più o meno rapidamente le spiego il sistema Benichels anche quelli gli ingegneri poi gli architetti un pochino meglio ma gli ingegneri proprio le scudevano comunque hanno visto che eravamo realizzati noi stiamo passando un periodo un po' difficile qui a Mosca era il periodo prima di Gorbaciov allora noi vorremmo costruire un certo numero di paesini attorno a Mosca attorno a Mosca c'è una grandissima rete ferroviaria e allora voleva lei mi deve fare la fortuna di studiare la possibilità di creare col suo sistema che ho visto che è rapidissimo perché in un'ora solleva delle cupole di legno realizzate col sistema pneumatico io non ho mai provato una cosa del genere non posso non posso ci penso un pochino dopo la riunione viene conclusa uno degli architetti viene da me e dice senta nel frattempo mentre lei pensa vediamo di studiare una cosa che avvicini gli Stati Uniti all'Unione Sovietica architettonicamente dobbiamo fare qualche cosa per esempio dice lui usando il suo sistema mettiamo tante cupole collegate con dei percorsi alla fine alla fine dei quali c'è una cupola con la descrizione di una favola russa si va avanti la descrizione di una favola americana quelle di Walt Disney questa cosa mi ha affascinato di quella allora dopo un po' mi si avvicina un altro architetto e dice senta secondo lei è possibile realizzare dei casuni familiari usando il sistema pneumatico e lasciando i futuri abitanti finire gli interni io vuoto forse ve lo posso fare però devo fare un esperimento prima lei dice no no lei faccia l'esperimento e se riesce nel suo esperimento ci ricontatti e vediamo cosa possiamo fare io ho fatto una casa e ho voluto vedere se era possibile realizzare una casa fatta di legno prefabbricata con in mezzo una membrana pneumatica gonfiando la membrana questi elementi di legno sarebbero sollevati e sarebbero bloccati nella posizione definitiva ed è venuta su questa casa che si è autoformata dove alle finestre c'erano le tende all'interno e sotto le finestre esterne c'erano del portafiori con i fiori veri ho fatto il modello perché non potevo portare sulla casa sono andato in Russia non c'era la riunione iniziale ma c'era l'architetto e c'era il sindaco questo è quello che vogliamo adesso ne facciamo 14 milioni ne faccio una ne ho fatta una 14 milioni non sono in grado di fare allora come facciamo l'unica cosa è chiamare un'impresa di costruzione internazionale che sia in grado di fornirvi 14 milioni di casette attorno a Mosca lungo il percorso ferroviario il programma che era assurdo come molti dei programmi in cui sono coinvolto sono storie quasi irreali che io ripensandoci ho sentito l'obbligo di scrivere un libro che è il primo libro che ho scritto è questo qua e poi è stato tradotto a Londra da Will McLean che è diventato mio caro amico e tutti quanti hanno cominciato a parlare di questo personaggio che riusciva usando aria compressa a sollevare cupoli di cemento armato di dimensioni più grande la cupola come meno pressione accorre quindi il problema cos'era? era quello di muovere le membrane che io chiamo pneumoforme e pulirle prima di costruire perché tu puoi usare la stessa pneumoforma per 10, 20, 30 volte dipende come tu la mantieni questa cosa perché è sollecitata da una forza di pressione irrisoria 0.5 PSA in termini tecnici la devi pulire la devi portare la devi trasportare allora mi è venuta un'idea brillante ma perché non evitiamo di avere una cupola intera una membrana continua e non proviamo a fare una cupola con delle bande che puoi comprare in qualsiasi negozio fuori allora quando ero in Australia che continuavo a fare queste cupole su tutto il territorio australiano come scuola ma poi invece come altre applicazioni però vedi la cosa è questa importante che si deve veramente bisogna approfondire questo tema siamo 7 miliardi di persone di questi 7 miliardi solo una minima parte hanno una casa sicura efficiente e dignitosa tutti gli altri vivono in condizioni assurde e allora bisogna e abbiamo l'obbligo noi soprattutto giovani architetti di trovare il sistema di produrre rapidamente che è essenziale di produrre economicamente è un modo che non squilibri l'ecologia del mondo allo 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 Grazie a tutti.